Leggere prima con attenzione, le foto si riferiscono allo stato attuale e non come sarà affittato. Dal 15 gennaio al 16 febbraio affitto per brevi periodi un monolocale di 22 metri quadri in corso di ristrutturazione. Il monolocale sarà redato con letto sul palco matrimoniale che si alza elettricamente e cucina con lavatrice. Ma io comunque dico, cioè, ho capito che questo è lo stato attuale, ma non farmelo vedere. Se veramente lo stato attuale è questo, chissà che Extreme Makeover o Medicio, io spero che tu faccia, perché comunque qua noi dobbiamo sempre cagarci in mano, perché le persone non sono tutte a posto, chissà che cosa si immagina. Cioè, io temo, temo nella ristrutturazione, comunque, ecco, questo tra l'altro 700 euro al mese. Adesso vi faccio vedere anche l'altro pezzo. Ecco, che poi, che si azionerà o meno elettronicamente, noi non sappiamo, però comunque lo spazio mi sembra veramente, veramente piccolo, molto angusto, molto buio, molto, che comunque a noi, signori, non ci convincete. Non ci convincete con queste cose elettroniche. Questa casa fa cagare, è un buco buio e comunque me la mettete a 700 euro al mese. Grazie.